Un caro saluto da Diego Fusaro. Sta per tornare protagonista caro la racchete, la capitana coraggiosa, o forse meglio sarebbe dire i capitali coraggiosi come altre volte dicemmo? La domanda potrà suonare oziosa per taluni e tuttavia dobbiamo porla perché è nostra convinzione fermissima che l'Unione Europea e la plutocrazia neoliberale userà l'immigrazione di massa per tenere sotto controllo il governo della destra bluette neoliberale, evitando che esso, governo della destra bluette neoliberale, possa agire altrimenti rispetto a indesiderata del blocco oligarchico neoliberale stesso. Come sappiamo la destra bluette è critica verso gli effetti della globalizzazione anche se stoltamente seguita a coltivare la causa della globalizzazione, ossia il libero mercato deregolamentato. La destra vuole il mercato ma non vuole le conseguenze tra cui l'immigrazione incontrollata, tra cui l'omologazione, la perdita delle tradizioni e delle identità, insomma critica gli effetti di cui però coltiva le cause. Che accadrà adesso? Tornerà protagonista caro Larachete? Ricorderete senz'altro che caro Larachete fu protagonista del modo con cui l'Unione Europea delegittimò sotto ogni profilo il governo giallo-verde sul fronte dell'immigrazione di massa. Poi caro Larachete tornò nel nulla da che non si parlò più di lei, da che le priorità erano cambiate. Ma chissà adesso potrebbe tornare protagonista dato che è tornato un governo che sul tema dell'immigrazione di massa almeno verbalmente ha visioni diverse rispetto a quella dell'oligarchia finanziaria che vuole più migrazione per avere più braccia disponibili a basso costo. Vedremo quali saranno gli sviluppi. Non ci stupiremmo comunque se caro Larachete dovesse tornare protagonista sulla scena pubblica e mediatica con la funzione già recitata a suo tempo.